Devo dirti una cosa Sì, sì, dimmi Tuo padre Oddio, dimmi Oddio, oddio, sì, cosa? Tuo padre mi ha mandato a me sul mio cellulare un sms Sì e mi ha chiesto di leggertelo Sì, sì, sì Vuoi? Sì, sì, sì Ok, adesso te lo mando lì Di fronte a te, puoi leggerlo Ok Leggilo pure Ok, carissima Barbara ribadisco ancora una volta che da parte mia c'è tutta la volontà di riabbracciare mia figlia Veronica Vai Dai, vieni Per poi lasciarci finalmente alle spalle delle spiacevoli vicende che abbiamo vissuto negli ultimi anni Tuttavia non desidero che la nostra rinconciliazione Diventi un caso mediatico Tutto accadrà lontano dai riflettori Ok Appena Veronica uscirà dalla casa del grande fratello e auspico di vederla uscire vincitrice Ok Questo è tutto ciò che il mio cuore desidera e sono sicuro che saprei comprendere le mie ragioni Un caro saluto Bobby Solo Vai 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 Grazie 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 a tutti